Digitalizzazione, smart working e chiusura delle filiali stanno cambiando il rapporto tra sindacalista e territorio. Quali strategie andranno messe in atto per favorire il rapporto tra sindacato e iscritti? Intanto diciamo che sono state le tematiche più trattate, insieme ad altre evidentemente, di questa quattro giorni congressuale e che hanno avuto molto risalto inevitabilmente sia nei confronti delle funzioni aziendali che sono state nostre ospiti e sono state centrali in molti interventi dei delegati e delle delegate. Le strategie da mettere in campo evidentemente sono situazioni complesse quindi andranno messe in campo tutta una serie di iniziative non semplici, molto articolate, strutturate nel tempo. Non abbiamo adesso il modo di declinarle tutte, però io dico, sottolineerei una cosa centrale che è una mia delega diretta in organizzazione che è la necessità e anche questa è emersa fortemente che ci sia un percorso, ci siano dei percorsi formativi molto approfonditi, il rapporto poi con i colleghi vi era modificato sul territorio, ma impostare politiche formative molto approfondite, molto radicate sia come organizzazione al nostro interno con i quadri sindacali per alzare il livello della professionalità e della preparazione dei nostri quadri sia nelle nostre fasi di negoziazione della formazione che rimane centrale in particolare in periodi come questi con grande necessità di riqualificazione professionale, di quelli che vengono chiamati upskilling, reskilling, quindi situazioni che vanno accompagnate nel tempo, sia nella fase di negoziazione sia nella fase di preparazione nostra interna dell'organizzazione. Questo è un aspicio, l'abbiamo già fatto, vogliamo continuare a farlo e cercheremo di farlo nel tempo, nel miglior modo possibile.